Il piccolo scrivano fiorentino, racconto mensile. Faceva la quarta elementare. Era un grazioso fiorentino di dodici anni, nero di capelli e bianco di viso, figliuolo maggiore di un impiegato delle strade ferrate, il quale, avendo molta famiglia e poco stipendio, viveva nelle ristrettezze. Suo padre lo amava assai, ed era buono ed indulgente con lui, indulgente in tutto forché in quello che toccava la scuola. In questo pretendeva molto, e si mostrava severo perché il figliuolo doveva mettersi in grado di ottener presto un impiego per aiutare la famiglia, e per valer presto qualche cosa gli bisognava faticare molto in poco tempo, e benché il ragazzo studiasse, il padre lo esortava sempre a studiare. Era già avanzato negli anni il padre, e il troppo lavoro l'aveva anche invecchiato prima del tempo. Non di meno, per provvedere ai bisogni della famiglia, oltre al molto lavoro che gli imponeva il suo impiego, pigliava ancora qua e là dei lavori straordinari di copista, e passava una buona parte della notte a tavolino. Da ultimo aveva preso da una casa editrice, che pubblicava giornali e libri a dispense, l'incarico di scrivere sulle fasce il nome e l'indirizzo degli abbonati, e guadagnava tre lire per ogni cinquecento di queste strisciole di carta, scritte in caratteri grandi e regolari, ma questo lavoro lo stancava ed egli se ne lagnava spesso con la famiglia a desinare. I miei occhi se ne vanno, diceva questo lavoro di notte mi finisce. Il figliuolo gli disse un giorno, babbo, fammi lavorare invece tua, tu sai che scrivo come te, tale e quale. Ma il padre gli rispose, no, figliuolo, tu devi studiare, la tua scuola è una cosa molto più importante delle mie fasce, avrei rimorso di rubarti un'ora, ti ringrazio, ma non voglio e non parlarmene più. Il figliuolo sapeva che con suo padre in quelle cose era inutile insistere e non insistette, ma ecco che cosa fece. Egli sapeva che a mezzanotte in punto suo padre smetteva di scrivere e usciva dal suo stanzino di lavoro per andare nella camera dal letto. Qualche volta l'aveva sentito, scoccati i dodici colpi al pendolo, aveva sentito immediatamente il rumore della seggiola smossa e il passo lento di suo padre. Una notte aspettò che gli fosse a letto, si vestì pian piano, andò a tentoni nello stanzino, riaccese il lume a petrolio, sedette alla scrivania dove era un mucchio di fasce bianche e l'elenco degli indirizzi e cominciò a scrivere, rifacendo a puntino la scrittura di suo padre. E scriveva di buona voglia, contento, con un po' di paura, e le fasce s'ammontavano. E tratto tratto egli posava la penna per fregarsi le mani e poi ricominciava con più alacrità, tendendo l'orecchio e sorrideva. Centosessanta ne scrisse, una lira. Allora si fermò, rimise la penna dove l'aveva presa, spense il lume e tornò a letto in punta di piedi. Quel giorno, a mezzodì, il padre sedette a tavola di buon umore, non si era accorto di nulla. Faceva quel lavoro meccanicamente, misurandolo a ore e pensando ad altro, e non contava le fasce scritte che il giorno dopo sedette a tavola di buon umore, e battendo una mano sulla spalla al figliuolo, eh Giulio, disse, è ancora un buon lavoratore tuo padre, che tu credessi? In due ore ho fatto un buon terzo di lavoro più del solito ieri sera. La mano è ancora lesta e gli occhi fanno ancora il loro dovere. E Giulio, contento, muto, diceva tra sé, povero babbo, oltre al guadagno, io gli do anche questa soddisfazione di credersi ringiovanito. Ebbene, coraggio. Incoraggiato dalla buona riuscita, la notte appresso, battute le dodici, su un'altra volta e al lavoro. E così fece per varie notti, e suo padre non si accorgeva di nulla. Solo una volta a cena uscì in questa esclamazione. È strano quanto petrolio va in questa casa da un po' di tempo. Giulio ebbe una scossa, ma il discorso si fermò, e il lavoro notturno andò innanzi. Se non che, a rompersi così il sonno ogni notte, Giulio non riposava abbastanza. La mattina si levava stanco e la sera, facendo il lavoro di scuola, stentava a tener gli occhi aperti. Una sera, per la prima volta in vita sua, si addormentò sul quaderno. «Animo, animo!» gli gridò suo padre battendo le mani. «Al lavoro!» Egli si riscosse e si rimise al lavoro. Ma la sera dopo e i giorni seguenti fu la cosa medesima, e peggio. Sonnecchiava sui libri, si levava più tardi del solito, studiava la lezione alla straccia, pareva svogliato dello studio. Suo padre cominciò a osservarlo, poi a impensirirsi, e infine a fargli dei rimproveri. Non gliene aveva mai dovuto fare. «Giulio!» gli disse una mattina. «Tu mi ciurli nel manico! Tu non sei più quello di una volta! Non mi va questo! Bada, tutte le speranze della famiglia riposano su di te. Io sono malcontento, capisci?» A questo si turbò. «E sì!» disse tra sé. «È vero! Così non si può continuare! Bisogna che l'inganno finisca!» Ma la sera di quello stesso giorno, a desinare, suo padre uscì a dire con molta allegrezza. «Sapete che in questo mese ho guadagnato trentadue lire di più che nel mese scorso a far fasce!» E dicendo questo, tirò di sotto alla tavola un cartoccio di dolci che aveva comprati per festeggiare coi suoi figliuoli il guadagno straordinario e che tutti accolsero battendo le mani. E allora Giulio riprese animo e disse in cuor suo «No, povero babbo, io non cesserò di ingannare».